chiusi della verna questa è una casa bellissima per chi fosse interessato affittarla anche per un fine settimana oppure anche per di più anche per settimane o quindicine oppure anche per mese oppure sempre è una casa molto bella tenuta bene qui c'è un bagnettino di servizio poi c'è un tipo sfiglio che ora non faccio vedere una bellissima cameretta qua un bel bagno nella camera ecco qua poi qua un'altra camera matrimoniale guarda che bella veduta qui della verna chiusi della verna qui c'è un altro bagno nella camera ecco qua e poi qua sopra c'è la manzarda sempre con le televisioni anche in camera questo era un antico castello del conte qui c'è la lavanderia bagno lavanderia la doccia un bel ambiente ora non tutte le finestre sono aperte però c'è anche un bel panorama delle mura qui dei conti questo era un antico castello dei conti qui della zona non mi ricordo come si chiama lo metterò nel video ciao ripercorro qui la strada della casa è una casa che se vi interessa fare una gita da queste parti insomma è in affitto molto bella questa cucina sono ammessi anche gli animali naturalmente così è in affitto è in affitto